Roma non è mai stata così piena di rifiuti, ogni cassonetto è una discarica e l'azione del comune è chiaramente insufficiente. Ad affermarlo non è qualche oppositore dell'amministrazione a guida pentastellata ma Lega Ambiente Lazio che spiega con la fine delle feste è terminato anche il picco di produzione giornaliera dei rifiuti ma continuano ad esserci discariche ovunque intorno ad ogni cassonetto su marciapiedi, strade, aiuole, in una città in condizioni igieniche e ambientali pessime. Intanto secondo i dati pubblicati dal Campidoglio complessivamente la percentuale di raccolta differenziata nella capitale nel primo semestre 2018 è ancora ferma al 44,3% esattamente come nell'anno precedente ed è congelata anche la diffusione del porta a porta che raggiunge il 33% delle utenze stesso dato del 2017 e del 2016. Il sistema di gestione dei rifiuti non migliora dichiara il presidente di Lega Ambiente Lazio Roberto Scacchi. Non c'è traccia di nuove isole ecologiche o centri di riuso figuriamoci di tariffa puntuale. Servirebbero impianti per la differenziata che vengano chiamati ecodistretti o fabbriche di materiali poco importa ma non se ne vedono all'orizzonte. Sono invece previste due centrali per il compostaggio insufficienti per dimensioni e mai discusse con la cittadinanza e fa sorridere amaramente che parta ora la fase di partecipazione con i romani quando i progetti sono stati depositati nove mesi fa e le localizzazioni individuate ben prima conclude Scacchi. Insomma la giunta grillina incassa un'altra sonora bocciatura dopo l'allarme lanciato dal vescovo ausiliario di Roma Monsignor Paolo Lo Iudice che a Radio Vaticana ha dichiarato io mi pongo da semplice cittadino la semplice domanda come mai una grande città non riesce a risolvere il problema della spazzatura è proprio così impossibile io chiederei questo ai nostri amministratori diteci il perché si resta amareggiati avviliti ha concluso il prelato.